diventa il cambiamento che vuoi vedere nel mondo è questo il titolo del concorso fotografico organizzato dal circolo città di tiene che si propone nel pieno dell'estate con scadenza prorogata al 13 agosto ancora un paio di settimane per partecipare alla quinta edizione della proposta artistica dedicata dall'associazione a enore marini a un gruppo che alla storica sede attiene che coinvolge fotografi esperti e amatori dello scatto da più località dell'alto vicentino e non il concorso a carattere regionale possono parteciparvi tutti i residenti in veneto le immagini faranno parte di una raccolta collegiale esposta in mostre itineranti future il tema prescelto è quella dell'acqua va inteso in senso ampio vale a dire legato alle problematiche globali e alla necessità dell'azione in questi ambiti la crisi idrica responsabilità sociale abbinate all'arte della fotografia chi vorrà inviare i propri scatti attenente alla proposta del circolo fotografico città di tiene avrà tempo fino a domenica 13 agosto massimo 4 opere a colorio in bianco e nero formato digitale con peso massimo di 6 megapixel ovviamente inedite e comunque non partecipanti in altri concorsi di fotografia per il regolamento completo consultare il portale ufficiale del circolo